Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a Foggia, ma soprattutto benvenuti alla Rampor, buongiorno da Raffaele Luciano e buongiorno a tutti da Chiara Carpano, benvenuti a Foggia, la Rampor Ten, un risveglio bellissimo questa mattina Raffaele, vero? Un risveglio pieno di gente per l'estate. Abbiamo svegliato e animeremo Foggia, siamo pronti per l'alza bandiera con i militari dell'undicesimo reggimento, della Brigata Pinerolo, alla presenza del colonnello Luigi Cucinotta, tra qualche minuto ci sarà l'inizio, il momento solenne dell'alza bandiera. Grazie. 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 Grazie.